Fiesole Piazzamino inizia il viaggio. La cupola del Brunelleschi da quassù di solito è ben visibile ma oggi no rimane a volta in una nube bassa mentre basta invece alzare leggermente la quota del nostro viaggio e scoprire che i tetti sono subito imbiancati. Poco più su a Borgunto qui è una delle terrazze più famose di Fiesole che danno sulla valle del Mugnone e poi sullo sfondo il Mugello come potete vedere le precipitazioni nelle voce si sono intensificate e lo spettacolo si è fatto ancora di più impressionante. Pochi chilometri di curve lo scenario fiabesco lascia ben presto campo ad una viabilità che diventa un grattacapo ogni centimetro che si guadagna in più. Lungo la strada che porta al Mugello pochi chilometri fuori Fiesole andando verso l'incrocio dell'Olmo come vedete ha già attecchito a terra il manto stradale già sta mostrando i primi segni di questa intensa nevicata. Mancano pochi minuti alle 11 del mattino quando la bufera in attesa produce suo massimo sforzo. E qui siamo all'incrocio dell'Olmo la direttrice principale per chi da questo lato arriva dalla faentina e per chi vuole proseguire lì c'è la bolognese dietro di noi le macchine che arrivano dal Mugello e gli spara neve nel frattempo che sono già entrati in azione. Scendendo lungo la faentina per rientrare nel capoluogo la Coltre Bianca ha lasciato il segno anche a bassa quota ma è solo un'illusione perché l'entrata in città è comoda qui la neve non si è posata anche stavolta Firenze può tirare un sospiro di sollievo.